E saluto di ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi è mercoledì, non è domenica, però oramai vi avevo avvisato che i video domenicali, gli ex video domenicali, quelli dove riassumevamo le novità tecnologiche più interessanti accadute durante la settimana non sarebbero più stati fissi la domenica ed è proprio questo il caso, perché ieri c'è stata una breaking news, una notizia molto importante che ha sconvolto un po' tutti per cui non poteva aspettare il fine settimana per parlarvene. Quest'oggi si parla dei rumor e leaks di Apple, ma c'è una novità sconcertante direi. Una cosa che non succedeva, pensate dai tempi dell'iPhone 4S o iPhone 5, quindi da tipo 7 anni. Ormai il ciclo vitale dei rumor è sempre stato questo. Ad agosto più o meno si sanno già tutti i dettagli sull'iPhone successivo che deve uscire tipo due settimane dopo che esce a settembre. Questo perché inevitabilmente Apple a un certo punto deve arrivare alla produzione di massa deve iniziare a costruire questo iPhone e i vari progetti su cui si basa poi per costruirlo vanno in giro e la gente comincia a diffonderli, quindi più ci si avvicina alla data di rilascio più si è sicuri sul design finale dell'iPhone. Così come quest'anno sul mio canale ne abbiamo parlato tanto, vi ho fatto vedere dei video sui mock-up, dei video sul clone dell'iPhone 11 e vi avevo detto che al 99,9% potevamo essere sicuri che il design del nuovo iPhone fosse questo, quindi con tre fotocamere sul retro, iscritte in questo quadrato smussato, colorazioni anche lì bianca, nera e oro, sul davanti non sarebbe cambiato praticamente nulla e questo quindi più o meno era il design che tutti oramai davano per scontato del nuovo iPhone del 2019. Ebbene ragazzi, ieri sera, tardo pomeriggio diciamo, un leaker russo molto famoso di nome Eldar Murtazin, credo si pronunci così, Eldar Murtazin, bevo solo vodka. A parte gli scherzi, è una grossa fama per essere uno che raramente si sbaglia e peraltro non è solo un leaker di Apple, è un leaker proprio di smartphone in generale, aveva scoperto prima il design del Samsung Galaxy S10, anche se non era molto difficile, ed ogni modo ha pubblicato un tweet bomba in cui ha detto ragazzi, guardate che l'iPhone 11 non sarà assolutamente come lo state vedendo in questo momento. È una frase così, capite, che un conto è dirla ad aprile, un conto è dirla ad agosto e lui non è proprio il primo che passa per la strada, quindi comunque c'è tutta una fetta di utenti che gli crede. In particolare il tweet che ha pubblicato è il seguente, i nuovi iPhone sono completamente diversi rispetto a tutte le foto che sono girate. Il vetro sarà come quello del Motorola Moto Z4 e sembra molto interessante. Oh, e ci saranno anche un paio di nuove sorprese per il design. esternamente saranno abbastanza diversi dagli iPhone attuali. Boom! E noi tipo, what? E addirittura Venia Jaskin, che comunque è un designer, non è un leaker, cioè lui in base ai rumor si mette a produrre su Photoshop i mock-up e le immagini dei nuovi iPhone, ma lui non penso abbia connessioni interne con Apple o cose simili. Appunto gli ha mandato una foto di quello che è l'iPhone 11 come lo crediamo noi oggi e gli ha chiesto quanto è simile rispetto al vero iPhone 11 che solo tu hai visto. E lui ha detto, non c'è zecca niente. Quindi, a chi bisogna credere, non lo possiamo sapere. C'è tutto internet che per il momento ha detto che l'iPhone 11 sarà così, poi c'è una persona comunque molto affidabile che ha detto, guardate, che sarà completamente diverso, senza però darci nessuna informazione a riguardo. Se volete sapere la mia opinione, non lo so, il mio cervello deve ancora metabolizzare. A me sembrava un po' strano, sinceramente, che il design rimanesse così tanto simile a quello attuale, soprattutto davanti, perché comunque è già due anni che gli iPhone sono identici praticamente, quindi me la sento di dare un po' di fiducia ad Eldar, più che altro perché lo voglio fare, cioè lo spero più che altro, perché quest'anno io sono in vena di cambiamenti, voglio vedere iPhone completamente diversi. Però, chi lo sa, peraltro se effettivamente gli iPhone fossero completamente diversi rispetto a quanto rumoreggiato fino ad ora, tutti i produttori di cover cinesi ne avrebbero un danno enorme, perché oramai sono già state prodotte un sacco di cover già per l'iPhone 11 e se non fosse così sarebbero da buttare. Ma ad ogni modo, già che ci siamo mettiamo un attimo da parte l'hype per questa notizia, sapremo la verità tra due settimane. Parliamo di altre notizie abbastanza strane che Apple ha fatto questa settimana, come per esempio il rilascio di iOS 13.1 Beta 1. Cioè, avete capito benissimo. Non è ancora uscito iOS 13 finale, uscirà intorno a metà settembre, e in parallelo con l'ottava beta di iOS 13, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 13.1, che invece uscirà a novembre, la versione finale. Ovviamente questo non significa che Apple non farà uscire la 13.0, uscirà comunque, però ci ha dato un'anteprima addirittura della Major Release 13.1. I cambiamenti per il momento sono alcuni, carini, tuttavia non utili, come per esempio quando si cambia il volume sulla 13.1 Beta nuova, anziché esserci banalmente l'icona dello speaker, in base al dispositivo che usiamo per ascoltare la musica, ci sarà un'icona diversa. C'è l'icona delle AirPods, oppure se tramite l'HomePod ci sarà l'icona dell'HomePod, se tramite le Beats ci sarà l'icona delle Beats. Però un fatto interessante è che ci sono anche dei nuovi wallpaper, dei nuovi sfondi dinamici di default, quelli con le bollicine che fluttuano, no? E sono di colori abbastanza diversi. E la gente ha ipotizzato che potrebbero combaciare con i colori del nuovo iPhone XR di seconda generazione di cui si è parlato tanto. E peraltro questo wallpaper viola potrebbe finalmente confermare, se questa teoria fosse corretta, la presenza di un iPhone XR viola, che ormai è da un anno che si sente questa voce. Ma la 13.1 non è stata l'unica versione ad essere rilasciata. Tant'è vero che due giorni fa, Apple ha rilasciato anche iOS 12.4.1 al pubblico, proprio per bloccare il jailbreak, di cui io avevo pubblicato il video il pomeriggio stesso. Quindi se siete interessati al jailbreak, ovviamente non dovete aggiornare la 12.4.1. Se invece non vi interessa fare il jailbreak, aggiornate perché questa versione comunque risolve delle gravi falle di sicurezza, che erano quelle che il jailbreak sfruttava per installare Cydia. E per concludere, sempre parlando di rumor, ci sono dei nuovi dettagli per quanto riguarda il nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Quello che si pensa uscire entro fine anno super figo, maxato al massimo, senza bordi. Ne avevamo già parlato in un video. Si parla appunto di questo nuovo MacBook Pro, che dovrebbe essere il più potente di tutti, che Apple rilascerà in una nuova versione senza bordi, per ricordare il vecchio MacBook Pro da 17 pollici, che oramai è fuori commercio da 8 anni, tipo. Sappiamo già del nuovo design, finalmente cambierà qualcosa rispetto ai MacBook Pro attuali, ma per esempio adesso sappiamo dei rumor per quanto riguarda la tastiera, che non dovrebbe più essere una tastiera butterfly, quindi quelle tipiche particolari dei MacBook, quelle sottilissime che non fanno rumore, come in realtà lo fanno, ma ne fanno uno diverso. E dovrebbe ritornare alla versione Shisource, quindi tastiera con meccanismo a forbice. Io sinceramente non credo a questa cosa, perché Apple che fa un passo indietro non si è mai vista. Però secondo Ming-Chi Kuo, che comunque anche lui non è l'ultimo degli stro, dovrebbe appunto ritornare alla vecchia tastiera, quella che c'era sui vecchi MacBook, quelli con tutte le porte per intenderci, e peraltro dovrebbe ritornare anche su tutti gli altri Mac nel 2020. Vedremo se questa cosa sarà vera o no. E per quanto riguarda il prezzo, si pensa che questo nuovo MacBook Pro da 16 pollici costerà inizialmente 3.000 dollari, la versione base. Sarà con il processore i7 o addirittura i9, purtroppo non posso essere dettagliato, perché i dettagli al momento non li sappiamo. Dato questo ragazzi, queste erano tutte le novità in questo video flash breaking di oggi. Io spero che vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, che come sempre link vi lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui i lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!